Un bel vento, quindi bisognava stare concentrati tutte le sei ore e mezza di corso. Io devo dire un grande grazie a Borut, a Bozic, perché oggi è stato fantastico, perché non so quanto si sia visto in tv, ma il lavoro che ha fatto lui è stato importante per arrivare nel finale con delle buone gambe. La bici, la bici non va bene, la bici è aperta, è stato superiore, merita di aver vinto questa corsa. La bici, la bici. 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 La bici.